Vabbè, io con Luca ho un rapporto da 30 anni e passa, insomma. È un rapporto molto bello. Lui vive un mondo suo. Ma lui vive proprio un mondo suo. Sì, sì, lui vive un mondo suo. Perché la gente si chiede, molti ancora, la casa. Riescono a creare delle cose che sembrano da vere. Ma sono vere. Sono vere. Perché lui è così. Sì, sì, sì. Lui vive una sua esistenza, un suo modo di pensare, un suo modo di vedere il circostante che è diverso dalla consuetudine. E questo lo rende molto particolare, molto vero. Però è stata una chiave anche di successo. Ma certo. E poi tu condividi, nel senso che molti tendono a non avere coppie vicino, cioè qualcun altro. Tu invece ho visto che questa coppia l'hai portata sempre ovunque. È una forza, anche una parte del tuo successo. È una forza, è un'occasione per svisare qualsivoglia tipo di argomento. E poi a lui vogliono bene dell'anima, quindi è così. Maestro Laurenti. Adesso un altro filmato.